Sì, salve Lorenzo, sono Ilaria, quella dell'intervista. Guardi, la chiamo perché ho dei problemi con internet e non conosco l'indirizzo. Potrebbe darmi delle indicazioni? Ok, iniziamo da lì. Sì, prima rotonda a sinistra, via Garassino, certo, la panetteria di Carla, certo, ok, a destra. Ah sì, sì, quello edificio lo conosco benissimo. Sì, sinistra, rotonda a destra, cento metri, semaforo a sinistra. Perfetto, guardi, chiarissimo. Grazie, a tra poco, sì. Beh, quindi hai capito. No, mi sono fermata alla prima rotonda. Scusa, ma perché? Non mi hanno dato la precedenza? Scusa, ma come hai fatto? Era ironico, Giulia, stavo seguendo le indicazioni e mi sono fermata alla prima rotonda perché non riuscivo più a starli dietro. Ah, ok, ma eri a pieni in macchina? Lascia stare, Giulia. Taxi?